Io chiedo a tutti di pensare innanzitutto al bene del collegio regionale dei maestri di sci e di tutti i maestri di sci d'Abruzzo piuttosto che a far diventare questa storia una guerra che non porta a nessun risultato. Tutto nasce dalla protesta di alcuni maestri di sci ai quali era stato negato sia l'elettorato attivo che passivo nella ricostituzione, quindi nell'elezione del nuovo collegio regionale dei maestri di sci. Da ottobre ad oggi ci sono state una serie di sentenze, nove per la verità, in cui è stato ribadito che questi maestri di sci che erano stati esclusi avevano ragione e che quindi l'esclusione è stata arbitraria al punto che il Tar ha chiesto ed ottenuto il commissariamento del collegio regionale dei maestri di sci per poter indire nuove elezioni. Nella commissione odierna quindi si è fatta l'esame di tutto quello che è successo e sono emersi due punti in particolare. Il primo è quello relativo alle spese che il collegio ha dovuto affrontare che ammontano a circa 90.000 Euro e questo è un fardello che il collegio si porterà avanti. Il secondo è, sulle parole dell'attuale commissario, che è stato ricostituito il collegio integrando sì i quattro che avevano fatto il ricorso, ma ascoltate bene, ne sono venuti fuori, che altri circa 200 maestri di sci avevano diritto a votare, a partecipare sì quindi alle elezioni del nuovo collegio regionale. Quindi io reputo che bene ha fatto la commissione di vigilanza, ringrazio quindi il Presidente Smargiassi ad occuparsi di questo argomento e ritengo anche che sia indispensabile ad oggi affrontare il problema del regolamento interno perché anche se si andasse ad elezioni subito, come il commissario è tenuto a fare, in realtà ancora non c'è un regolamento che universalmente venga riconosciuto come valido visto le sentenze del Tar.